Un incontro sui temi del turismo, un settore di grandissima importanza per la regione Puglia con la partecipazione del sottosegretario Lorenza Bonaccorsi che ha avuto indicazioni molto concrete per il destino di questo territorio regionale. L'intento era quello di approfondire un pochino quelli che possono essere i progetti su quest'area che vede anche delle eccellenze, però poi vede anche delle zone d'ombre. Abbiamo cercato di approfondire un po' i temi e vedere anche quali sono le possibilità di sviluppo di quest'area. Brindisi ha tante potenzialità ma non riusciamo ad esprimere al meglio. Secondo me serve uno shock, qualcosa che in qualche modo dia la motivazione forte per poter poi venire in questa città e poi visitarla. Perché chiunque poi la visita ne rimane assolutamente ben impressionato. Noi abbiamo fatto tante attività anche di livello internazionale e chiunque è stato ospitato in questa città ne ha detto sempre un gran bene. Quindi diciamo che dobbiamo solamente portare la gente qui e dare un motivo perché rimanga qui almeno qualche giorno. Lo stesso dovremmo fare per le parti della provincia che sono poco frequentate. Dobbiamo progettare qualcosa che possa in qualche modo attrarre i turisti. Perché poi i turisti in Puglia ci sono, ce ne sono tanti. Quest'anno abbiamo avuto più un turismo domestico, un turismo nazionale. Ma in altre occasioni abbiamo, in altri anni, abbiamo avuto una presenza massiccia di turisti anche stranieri. E quindi dobbiamo approfittare di questa cosa e il Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo ci può essere molto utile insieme naturalmente all'opera essenziale della regione che non solo ci mette la competenza ma anche i fondi per poter arrivare a risultati seri. Cultura, arte, spettacolo sono voci che rimandano inevitabilmente all'esperienza personale, alle competenze di Carmelo Grassi. Al tempo stesso costituiscono elementi di grande importanza su un piano turistico generale per l'affermazione della regione Puglia e del nostro territorio provinciale. Non c'è dubbio. Veramente in questa campagna elettorale ne parliamo poco. Ci sono forze politiche che non ne parlano per niente. Sono contento di buttare un sasso nello stagno per arrivare a risultati seri. La cultura, lo spettacolo e ovviamente insieme al turismo che poi è il fatto economico, il motore economico di questo, devo dire che sono stati essenziali in questi ultimi 15 anni per cambiare il volto e l'attrattività di questa regione. Quindi credo che sia un argomento di cui bisognerebbe parlare e bisognerebbe anche progettare il futuro della nostra regione in questo ambito. Insomma diciamo che abbiamo tutte le competenze per poterlo fare al meglio e mi auguro di poter dare un minimo contributo in quest'ambito. Come vive Carmelo Grassi questa esperienza? Molto male, non è nelle mie corde fare campagna elettorale, forse perché ho fatto tutt'altro nella vita e arrivo a questa scelta molto tardi. Però io credo che questo fosse il momento giusto per poter dare una mano e per poter continuare un percorso che io ho fatto in altra veste, ma che comunque ha dato risultati straordinari a questa nostra terra e quindi dobbiamo cercare in qualche modo tutti quanti di dare un contributo, chi con il voto e chi con un impegno diretto personale mettendoci la faccia. Sono davvero contenta anche di essere qui per essere accanto alla candidatura alla regione Puglia di Carmelo. Io davvero credo che se lo meriti e che dobbiamo fare di tutto e si dovrà fare di tutto per portare la sua voce in Consiglio regionale, perché è una voce innanzitutto competente, ma soprattutto è una persona che lavora sul tema della cultura, della produzione, del turismo competente, che sa cosa vuol dire, ma soprattutto ha una visione rispetto a questo, le sue parole l'hanno dimostrato.